Vediamo cosa ci troviamo di bello, una epica! Hello guys, Ryan here, benvenuti in questo nuovo video qui sul mio canale, siamo su Hearthstone E' partita la nuova rissa, io ho già un pacchetto che apriremo a fine video Se vinciamo anche l'altro, lo apriamo a metà video, giusto per spezzare E poi apriamo anche il secondo della rissa, ovviamente Perché, come sapete, le risse ogni settimana, o comunque ogni volta che cambiano, ci regalano un pacchettino Quindi abbiamo questi due pacchettini da aprire E leggiamo la nuova rissa Ragni, ragni dappertutto I ragni sono dappertutto, anche nel tuo mazzo Qualsiasi classe giocherai, il mazzo brulicherà di tessitera Allora, come per l'altro video, andiamo ad utilizzare il mago Perché è sempre la classe che conosco meglio, di cui conosco quasi tutte le classi Eh, quasi tutte le carte E quindi riesco ad adattarmi un po' meglio Anche se ultimamente sto giocando molto il warlock Ma ne parleremo in un altro video Ok, signori, siamo contro un warrior E abbiamo già carte strane Allora, tessitela Ma intendi tessitela? Quei tessitela? Ah Ok Oh Oddio, perché immagino che siano gli unici All'interno del... Siano gli unici, le uniche bestie all'interno del mazzo Perché immagino di avere ragione? Oh mio Dio, signori, oh mio Dio Ok Spero, spero che con il mage giochiamo, che ne so, tipo... Roba tipo Arcane Explosion Così possiamo fare pulizia Non lo so Ok Vediamo cosa fa Ne giochi un altro, ovviamente Perché è una monetina E infatti E infatti Ok Ok Allora Per curiosità E poi capiamo cosa... Cosa mettere a terra Ah no Ah no Ah no, signori Ah no Ah no Ah no Quindi no Dobbiamo andarcela a giocare così Col cavolo che gli andiamo a dare bestie più forti No, 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 no Tieni, tieni Prenditi Prenditi gli amici ragnetti Vai, vai Spaccaceli tutti così Siamo contenti Quindi praticamente funziona così Avremo il mazzo pieno di ragni Ma ogni volta al quale ci daranno un ragno E noi siamo avvantaggiati perché abbiamo la pallina Quindi possiamo uccidercelo volendo Possiamo andare tranquillamente a pescare altri bestie E questo non è male Questo non è male Allora Io direi Io direi Ma vogliamo far pulizia Che dite? Pulizia loro Così peschiamo Dai proviamo Dai proviamo Chi se ne frega Ok Uuuuh Abbiamo il gufo Sì, bello Giochiamo il gufo Così noi gli diamo un'altra bestie Vai così Oh, oh Vedete Inizia già a girare Nel prossimo turno possiamo giocare questo Nel turno dopo possiamo giocare questo qua Che a provocazione Grido di battaglio Tiene più un attacco per ogni altra bestie Che contro Avete letto? Avete letto? Avete È bellissimo Ok In questa modalità con la carta è OP Signori sono contentissimo Andiamo a brindare tutti Oh C'ho la pyroblast Ah La pyroblast Che bella Allora Io il 4-4 Non lo gioco Ma manco Manco se Andiamo a fare così Gli facciamo anche un dannino in più Poi partiamo a 28 Prossimo turno Prende più un attacco per ogni Eh beh Prendi più 4 Arrivi 6-6 Insomma Già più interessante Signori Cioè un 6-6 è È bello Molto carino Ok Vediamo Come sarà già stra lui Ok Si fa l'armatura Ovviamente Immagino che ci attaccherà Da quanto ho capito Oh Un danno a tutti i servitori Addio È stato bello È stato molto bello Ok Ok Uh Il metalufo Il metalufo Pardon Ok Ok Signori Eh Qui è Eh Qui è un po' così da giocare Allora io direi Mettiamo giù Questo Questo Abbiamo ancora 3 di mana Quindi mettiamo questo In giro Sono Invece che 1-1 2-1 Meglio Meglio E vediamo Dove riusciamo A A sistemarlo Perché il prossimo turno Già così Potremmo giocare comunque Quello è oncino Il re delle bestie Che comunque si prende Più 3 attacco Se mai lo mettiamo Vicino al metalufo Eh Eh Facciamo i trick Però C'è un attimo da vedere La situazione Cosa fai Tu amico warrior Comunque sono molto belle Queste risse Devo dire la verità Forse la più carina È stata proprio la prima Il fatto che comunque utilizzavi Dei personaggi boss Quindi le carte erano diverse Non c'erano proprio le carte del gioco E quello mi è piaciuto assai Però Devo dire la verità Che Anche la volta scorsa Con le banane Questa qua Con i ragnetti Non è male Davvero non è male Quindi Complimenti a blizzard Ok Rissa Bene Peschiamo una carta E signori Andiamo a aprire la prima bustina Di questo bellissimo episodio Quindi andiamo Andiamo sperando di trovare Qualcosa di bello Io mi sa che Come al solito Non ci troviamo assolutamente niente Ma sono tutte polverine Che ovviamente Andiamo a guadagnare Se la tua mano è vuoto Attiene Più 3 Più 3 Ok Ok Allora signori Questa però è provocazione Io quasi quasi lo gioco Anche se prendo solo più 2 Comunque un 4 6 E allora Io lo lasciamo là Prossimo turno Se mai giochiamo un altro regnetto E rigiochiamo il re delle bestie Potrebbe essere un'idea E avremo anche un 5 6 A meno che lì Non abbia un'altra rissa E spero vivamente di no Perché se no Omg Omg Ah sì Però non è la carta Non è la mano vuota Quindi è un 4 4 Che prende Se no più 3 Più 3 Cavolo diventa fortissimo Sto coso Peccato che appunto L'hunter Non abbia spesso La mano vuota Allora Io direi Che ci schiantiamo Contro i nostri 1-1 Perché Andiamo no A fare Acewag Uh La gallina E come la gioco la gallina Col mage Non la posso giocare La gallina col mage No Io il 4-2 Io lo faccio fuori Anche se Avrei potuto lasciarlo a terra Lo so Lo so Lo so La gallina la giochiamo Non danno in più A caso Vediamo Vediamo come va Perché Signori Per il momento Ok Luca è un warrior Però noi siamo Eeeh Che Cullo Fratello Caro Però Eh si Ok Fatemi vedere un attimo Cosa mi mette in mano Sto tizio Questo ritorna nel mazzo Giusto Ritorna nel mazzo Quindi Fruttività Allora Io lo togliamo Vai Torna nel mazzo È stato bellissimo Dovrà spendere altri 7 di mana Per giocarlo Quindi Ok Allora Signori Io giocherei Questo Giocherei L'altro tank Ma si giochiamo anche l'altro tank Poi il tessitela ci pensiamo Io spero non gli abbia creato Carte ancora più OP A questo punto Perché Insomma La leggendaria del druido È grossa E altre bestie leggendarie Che io ricordi Cioè Sicuramente Quella È come Un'altra O è la stessa che ha pescato Ci dobbiamo pescare un gufo Dobbiamo assolutamente pescare un gufetto Ok Allora Signori Qua la situazione si fa Nera come la pece E Quasi quasi Io direi Di fare proprio questo Vediamo di pescare Che robe belle Tipo Oh Si Che culo Oh Si Che culo Io lo lasciamo lì Io lo lasciamo Io lo lasciamo lì Oppure no Oppure no Oppure Oppure no Oppure no Signorino No Togliamolo Dai Non fa nulla Andiamo a giocarci Il nostro bel 2-7 Che poi vedremo come evolvere La nostra gallina Gli fa addirittura un danno E giochiamocelo a così bello È un modo per giocare Un po' più Control Il mage Questo Questo mazzo Mi piace Mi piace Perché Il mage è sempre Molto rush Molto mid range Al massimo Non fa molto control Invece La cosa che mi sta piacendo Dello stregone Che sto giocando ultimamente È proprio che Controlla tanto No E quindi è figo Perché Ok Meno male che non abbiamo altri Non ci sono Marlock Perché se no Meno male Meno male Meno male Ok Questo potrebbe essere Un problema Una situazione Alquanto problematica Se non che Abbiamo Facciamo un conto 4 2-6 2-8 E una 6 Una 9 E 10 Sono 19 E lui ha 23 Vale la pena Buttargli tutto in faccia Io uno dei nostri Lo schianto Giusto per vedere Se ci fa pescare Qualcosa di carino Tipo Eh Eh Vedi Potevi uscire prima Tu Bene Molto bene Allora Gli togliamo Un danno E poi Tutto il resto Invece Gli facciamo Gli facciamo In the face Perché l'ho fatto Col 2-1 E non col Ah perché Aveva 2 di vita Molto bene A 16 di vita Adesso lui può Pulirci 3 mostri Cosa farà Secondo me toglie Il 3-2 Col 4-4 Perché deve toglierlo Perché sennò E oh però E quante volte lo peschi Fratello caro Perché c'è proprio Il culo Ma 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 grande così Eh Ok Ok Questo potrebbe essere Leggermente problematico Ma non vi preoccupate Signori Tranquilli Eh Allora Vediamo Uuu Ah no però È giusto Non posso farlo Nello stesso turno Niente Ok Fammi vedere cosa Oh provocazione Provocazione è bella Provocazione è bella Signori Allora facciamo Che questo va via Ciao Questo me lo tengo io 6 danni Gli facciamo In the face Poi ancora 2 Cosicché Prossimo turno Lui si farà sicuramente Almeno 2 di armatura A meno che non avrà Magie in più Ma Mmm E noi possiamo fargli La pirosfera E teoricamente Potremmo anche vincere Se no Vi facciamo la pirosfera O pyroblast Perché pirosfera Non si può sentire E no però Con le tue bestie Hanno carica Così non si fa No Posso dirlo No Ho detto Questo è problematico Ma non può pescare Tutte le leggendarie Signorino Non l'ho beccata Neanche una Che sfiga E non abbiamo Neanche pescato Un Ah però A 10 A 10 Non si è fatto L'armatura Chiedo scusa Io già mi stavo Demoralizzando Sul fatto che avessi perso Ma non l'avevo visto Signori Abbiamo vinto Perché La pyroblast È sempre bella Rimpiango i tempi Quando si giocava Abbiamo vinto Una bustina E quindi Sicuramente Ci apriamo Una bustina Adesso Ovviamente Io aprirò Anche l'altra Ma l'altra La vedrete In mezzo al video Quindi Andiamo ad aprire La bustina Ok signori Andiamo ad aprire La bustina Appena vinta Quindi Vediamo cosa Ci troviamo Di bello Una epica Mi raccomando Lasciate tanti bei pollici In su Tanti commenti Qua sotto Molto bene Andiamo Perfetto Signori Sono contento Che questa modalità Rissa È così divertente Così varia Davvero Molto 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 carina Complimenti a Blizzard Per questa modalità Abbiamo aperto Due pacchetti Nel corso del video Abbiamo vinto Siamo tutti contenti Purtroppo Non abbiamo trovato Nessuna leggendaria Nei pacchetti Ma abbiamo beccato Una epica E ci accontentiamo